Ogni anno si tiene il congresso ChemMed e Aurelio vi partecipa come presidente della sua associazione. Deve parlare dell'uolo dell'ingegneria chimica per lo sviluppo di nuovi principi attivi farmaceutici ad un pubblico spesso distratto. L'argomento ostico non lo aiuterà a destare l'attenzione dei suoi spettatori ma tra loro ci sono potenziali nuovi soci e collaboratori. Ha bisogno di colpirli e che si ricordino di lui. Aiutare Aurelio è stata una sfida entusiasmante per noi che ci ha permesso di sfoderare le nostre doti grafiche e non solo. Grazie